Gentili telespettatori, buona giornata. Vi racconto una storia che non è una storia di un film, o meglio, qualcuno aveva raccontato un qualcosa di simile, mi sembra un comico italiano. La storia di Ivo, italiano arrivato a Lampedusa come clandestino. Eh sì, 34 anni, Ivo, nasce in Guinea, con Acri, da un emiliano e una giovane del posto. Si è fatto riconoscere la nazionalità solo da pochi giorni. Suo padre sparì nel nulla nel 1996 e il giovane, discriminato nel paese natale e respinto dalle autorità consulari italiane, ha avuto una sola scelta. Dice sono un italiano che per raggiungere il suo paese ha dovuto farlo come clandestino. E così, Michel Ivo Ceresoli, nato 34 anni, fa in Guinea, dall'unione tra un italiano dell'Emilia-Romagna e una giovane del posto. È riuscita ad ottenere il suo documento che attesta a tutti gli effetti la sua nazionalità italiana, la stessa che si evince già chiaramente dal cognome che porta. Ceresoli, quello dell'uomo che nel 1989 sposa una donna guineiana dalla quale ha avuto due figli. Eh ma anche questi due figli sono italiani, per esempio. Ecco, anche i due figli di questo Ivo sono italiani. I figli si chiamano Michel Ivo e Abram, oggi trentenne l'ultimo. L'uomo originario del Modenese, all'epoca direttore dei lavori per la società Astaldi, che stava realizzando la strada Mamu-Kiss-Dogu, riconosce entrambi i figli. Poi nel 1996 lascia la Guinea e da quel momento né la moglie né i figli hanno più sue notizie. Per Michel Ivo, che vive in un piccolo villaggio del Conacri, inizia una sorta di doppia discriminazione. Quella dei guineiani, che non lo considerano uno di loro, ma un mezzo italiano, è quello degli italiani che ignorano le sue richieste di riconoscimento della nazionalità e gli negano il visto per venire in Italia, che è poi il sogno coltivato per 34 anni da Ivo Michel. Negli anni comunque lui si laurea in diritto internazionale alla Nongo Conacri University, mentre il fratello si laurea all'Università Kofi Annan della Guinea in turismo. Beh, dice, sono stato escluso lì, sono stato escluso dagli italiani, non ero guineiano puro e questo me lo facevano pensare, sono stato tra i migliori dieci diplomati, nove sono stati assunti, io no perché ero mezzo italiano e per lavorare mi chiedevano anche dei soldi. E insomma, un bel posto comunque. Ecco, lui comincia a tentare di arrivare in Italia nel 2006, ma la sua famiglia non ha mezzi e poi l'ambasciata italiana in quegli anni era chiusa praticamente. Gli uffici riaprono nel 2018, ma il ragazzo viene rimbalzato al consolato italiano. Abbiamo fissato una serie di appuntamenti che però non sono mai stati rispettati. Sembrava fosse, dice, una maledizione essere italiano e non capivo perché fossi trattato così da un rappresentante del mio paese, per non parlare dei problemi con le autorità guineiane che per razzismo ci hanno rifiutato tutto perché per loro non siamo guineiani e quindi non meritiamo alcun servizio pubblico. Ripeto, un bel posticino, proprio un bel posticino. Ma lui vuole raggiungere l'Italia ad ogni costo. Così utilizza i soldi risparmiati per prendere il mare. Cercava di tornare a casa per via clandestina. Raggiunge il Mali, baratta il telefono per un passaggio fino al confine con il Niger, dove però i soldati gli strappano il passaporto. Senza documenti riesce ad arrivare in Algeria e dopo mille peripezie la Tunisia, dove parte con i barchini, arriva a Lampedusa. Ci prova tre volte, al terzo ci riesce. Il 4 luglio 2023 sbarca sull'isola. E così Ivo Michel, che parla solo francese, dice alla polizia che è italiano. Nessuno però gli crede. Escrivono semplicemente Guinea. Due giorni dopo viene trasferito al cara di isola di Capo Rizzuto, dove grazie alla polizia, ai volontari che operano nel centro per la prefettura di Crotone, riesce a dimostrare di essere italiano. E il comune calabrese gli rilascia la carta d'identità, con la dicitura nazionalità italiana. Adesso Michel Ivo vuole incontrare suo padre, che era sparito. Ecco, forse è meglio lasciar perdere, visto che era sparito. Lascia perdere, no? Comunque, storia che mi sembra che aveva fatto un film, non su questa storia ovviamente, ma quel comitico italiano che adesso non mi ricordo il nome, aveva fatto proprio un film dove lui, al contrario italiano, partiva dal Nordafrica per venire in Italia in mezzo ai clandestini. Come si chiama quel comico? La mia mente se ne va, lo sento, come il computer di 2001 Odissea nello spazio, al 2001. La mia mente se ne va, lo sento. E potrei cantarvi anche giro giro tondo, come faceva il computer. Cos'era? Al 9001? Chi lo sa. Perché non me lo ricordo? Perché la mia mente se ne va. Bene. Diciamo che anche l'ambasciata italiana là, che non voleva sentir ragione nel riconoscere una persona con il cognome chiaramente italiano, Ivo Ceresoli. Insomma, vediamo comunque questa storia arrivata parzialmente a lieto fine, perché comunque oggi sarà in Italia con i documenti italiani, quindi non ha bisogno di chiedere la cittadinanza perché ce l'ha già dopo 34 anni. Bene, io vi ringrazio per avermi ascoltato. Vi ricordo che qui siete su Tele Italia Seconda Rete, mentre il canale principale è Tele Italia, dove poi lì ci sono molti più video che qua sui Tele Italia. Quindi vi consiglio di andare a cercarlo tra i canali. Alla stessa fotografia, quel televisore con tutti i colori, la stessa Tele Italia e Tele Italia Seconda Rete hanno lo stesso televisorino. Molti pensano che sia la stessa cosa, molti conoscono Tele Italia Seconda Rete e non sanno che c'è Tele Italia Seconda Rete. Infatti un canale ha 270.000 iscritti e l'altro ne ha quasi 32.000, quindi vuol dire che in realtà ci sono almeno 240.000 iscritti che non sanno dell'esistenza dell'altro canale. Che vi devo dire? Io lo dico sempre in tutti i video, lo metto anche nella community, però evidentemente non lo sanno. Io vi ringrazio per avermi nuovamente ascoltato, ci vediamo di là, ricordatevi, se non lo sapete c'è la rassegna stampa, come ogni notte, la rassegna stampa. E poi questi video dei due canali, Tele Italia e Tele Italia Seconda Rete, sono condivisi un po' su tutti i social, dove è possibile condividere un video di YouTube, quindi escluso Instagram e TikTok, dove non puoi condividere i video, in tutti gli altri, da X a Triaz a Facebook, trovate questi video da condividere. Grazie a tutti e arrivederci. A presto.